Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo volume appena pubblicato dalle edizioni dell'Orso dal titolo Le meraviglie nel mondo nel viaggio a inizio 400 di Quattro Cavalieri. Edizione critica e commento a cura di Laura Ramello che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che ci può parlare di queste meraviglie del mondo di cui siamo veramente curiosi. Prego professoressa, a lei. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti e grazie Italia Medievale per questo invito. Le meraviglie del mondo sono quelle che Quattro Cavalieri Erranti a inizio 400 vanno a ricercare andando praticamente in tutto il mondo allora conosciuto andando prima verso Oriente che come sappiamo era un po' il serbatoio di tutto il meraviglioso che la cultura medievale ma non solo perché molte delle meraviglie che nutrono l'immaginario medievale sono in realtà eredità anche della classicità e vanno appunto in Oriente a cercare queste meraviglie ma poi si spostano anche verso Occidente, anche verso l'Europa e nonostante l'Europa sia ovviamente un continente molto più noto e conosciuto anche in Europa scoprono tutta una serie di cose meravigliose che vengono appunto raccontate in questo resoconto di viaggio. Un viaggio che inizia a Venezia nel 1416 dove si incontrano appunto questi quattro giovani aristocratici che sono accomunati da questo eh desiderio di eh andare a ricercare le meraviglie del mondo. Eh questo eh è ehm un tratto secondo me di grande modernità perché a differenza di quanto possiamo riscontrare in altre narrazioni di viaggio in cui eh il lo scopo del viaggiare è sempre ben preciso, ben definito per il medioevo eh non c'è mai una eh un viaggio ozioso, c'è sempre uno scopo che guida, che può essere lo spirito missionario, può essere eh la questioni commerciali, pensiamo a Marco Polo che eh ha viaggiato in Oriente per i suoi commerci. Eh questi quattro cavalieri invece viaggiano per piacere, per diletto. Eh un un modo di vedere il viaggio che eh ricorda molto il nostro moderno concetto di vacanza, quindi andare eh a scoprire eh terre nuove eh incontrare gente nuova per nutrire la loro dimensione e di intellettuali. Quindi eh sono eh esponenti di una classe sociale eh elevata eh sono dei cavalieri ma coltivano anche questo loro aspetto diciamo così culturale per cui vogliono viaggiare con questo scopo. Per fare questo mettono in comune una somma di denaro per far fronte alle spese e poi eh il primo maggio del 1416 si imbarcano su una galea da Venezia eh diretti verso la Terra Santa. Questa prima tappa potrebbe farci pensare a un eh resoconto di un pellegrinaggio, in realtà non è così perché eh dopo aver visitato il il monastero di Santa Caterina sul Monte Sinai eh scendono verso il Mar Rosso eh e lì attendono una carovana proveniente dal Cairo e diretta verso l'Asia eh a cui eh aggregarsi per eh andare appunto in Asia. Così fanno, incominciano il viaggio, dopo tre giorni devono affrontare il deserto che per eh qualunque viaggiatore medievale era sicuramente l'ambiente più ostile, era la quintessenza di tutti i rischi, di tutti i pericoli che eh un viaggio poteva comportare, fortunatamente lo superano indenni e eh superato il deserto incominciano ad addentrarsi nel vastissimo territorio del regno di Prete Gianni, quest'altra mitica figura no medievale eh di sovrano eh re sacerdote che veniva collocato in vari luoghi eh in Asia poi anche in Africa in in Etiopia loro viaggiano verso l'Asia dopo aver attraversato territori eh in cui incontrano cinocefali, in cui incontrano monocoli, in cui incontrano pigmei giganti, arrivano finalmente alla corte eh di prete Gianni ovviamente descritta con tutte le meraviglie del caso eh la la sua cappella privata viene descritta come la stricata di smeraldi e di zaffiri le le pareti ricoperte di pietre preziose questo re che eh veste un abito sontuoso eh ciò che colpisce però il fatto che eh dopo averli accolti molto calorosamente prete Gianni chieda immediatamente a questi quattro cavalieri notizie del re d'Inghilterra e del re di Francia. Ora siamo eh nel millequattrocentosedici o per meglio dire nel millequattrocentodiciotto perché arrivano eh da prete Gianni dopo due anni e mezzo di viaggio e eh prete Gianni chiede immediatamente notizie dell'Europa. Siamo eh nel pieno della guerra dei cent'anni, siamo all'indomani della battaglia di Asencourt che aveva visto eh opporsi eh in maniera molto violenta e sanguinosa la la Francia e l'Inghilterra. Quindi eh questa domanda fatta da prete Gianni e i cavalieri non è sicuramente un elemento casuale, è un riferimento molto preciso alla realtà del tempo e ciò che emerge dalle considerazioni che fa prete Gianni è un un grande ridimensionamento di queste potenze europee che si stanno affrontando in maniera così eh accanita e che però viste dall'Oriente sembrano davvero piccole piccole. Prete Gianni ad un certo punto risponde ai cavalieri eh quando io vado a caccia porto con me più gente dei due eserciti inglese e francese messi insieme. Quindi c'è eh una eh una prospettiva diversa no? Eh di uno sguardo diverso rispetto a questioni che erano invece vissute sulla propria pelle dagli europei proprio in quel periodo. Eh dopo aver lasciato il regno di prete Gianni i eh quattro cavalieri continuano ad addentrarsi in Oriente in Asia e qui c'è veramente diciamo l'esplosione del meraviglioso. Eh arrivano alla corte del Gran Can dove hanno modo per esempio di partecipare alla caccia all'unicorno e l'unicorno sappiamo era un altro grande mito no? Che non poteva mancare nella zoologia mentale dei eh degli uomini e delle donne medievali. Eh l'unicorno ovviamente è descritto così come ce lo restituiscono i bestiari eh quindi ehm per nulla un animaletto simpatico come eh appare nel nostro immaginario eh associato spesso a pubblicità o a giochi per i bambini in realtà viene presentato come un animale molto feroce eh un animale difficile da catturare e eh poi eh viene descritta proprio la modalità di cattura dell'unicorno eh che può essere catturato soltanto se ehm viene messa nel bosco dove si trova l'unicorno una fanciulla vergine a cui l'unicorno si avvicina eh si addormenta sul suo grembo e quindi i cacciatori possono catturarlo o ucciderlo. Un'altra leggenda che viene ehm raccontata all'interno di questo racconto di viaggio che riguarda proprio sempre l'unicorno eh è la la preziosità del corno dell'unicorno che dipenderebbe dalle sue proprietà quasi taumaturgiche e eh purificatrici. Eh raccontano i quattro cavalieri che assistono a questa scena di un eh lago intorno al quale ci sono degli animali eh che attendono di poter bere non possono bere perché un serpente tutti i giorni avvelena l'acqua eh solo quando arriva l'unicorno e immerge il suo corno nell'acqua l'acqua viene purificata e allora tutti gli animali possono bere. Eh ci sono ovviamente descrizioni di animali fantastici eh cavalli multicolori ehm strani animali che vengono chiamati timboli che sono degli ungulati per metà eh buoi e per metà leoni e di cui ci viene detto che sono molto buoni da mangiare eh e poi ci sono i classici animali che ci si aspetta di vedere in oriente gli elefanti, i coccodrilli eh descritti però sempre con quelle prerogative con cui vengono presentati nei bestiari. Ad esempio dell'elefante si dice che eh non eh non ha articolazioni nelle zampe per cui per dormire deve appoggiarsi agli alberi perché non può sdraiarsi per terra e quindi deve dormire eh in piedi. Eh oltre al meraviglioso legato agli animali ci sono poi le le meraviglie legate agli spazi urbani eh pensiamo alle città vengono descritte eh molte città all'interno di questo racconto viene descritta il Cairo eh con ehm aggettivi che puntano molto sulle grandi dimensioni della città e sulla numerosità della sua popolazione eh e parlando del Cairo ovviamente non possono mancare eh riferimenti alle piramidi eh che però ehm e questo è un dato tipico del del medioevo non vengono presentate come monumenti funebri ma vengono presentate come granai eh si era persa questa eh consapevolezza del fatto che le piramidi fossero dei monumenti funebri e si pensava che fossero dei grandi silos fatti costruire da Giuseppe in Egitto durante i sette anni di vacche grasse per immagazzinare appunto il grano e poter affrontare la carestia dei sette anni di vacche magre quindi anche questo è un riflesso molto preciso della delle credenze e della mentalità del del tempo ehm viene descritta anche Damasco eh di Damasco quello che colpisce è eh la descrizione del clima viene descritta una città da un clima ehm inclemente eh freddissimo d'inverno si dice addirittura che cade tantissima neve e caldissimo d'estate al punto che gli abitanti devono eh andare a dormire nella foresta perché non resistono eh nel nelle loro abitazioni si parla di Samarcanda la mitica Samarcanda e se ne parla in relazione a Tamerlano altro personaggio che viene richiamato e che eh di nuovo ci riporta un po' nella storia del tempo le imprese l'ecoa delle imprese di Tamerlano era arrivata fino in Europa e aveva segnato profondamente la coscienza degli europei e questo personaggio viene richiamato ehm insieme alle sue usanze Tamerlano essendo un tartaro segue la l'usanza del nomadismo tipica della della sua gente del suo popolo ma eh anche qui la descrizione di questa eh città semovente che è il campo di Tamerlano eh è piena di meraviglie con queste eh tende magnifiche eh ampie in grado di accogliere tante persone con tutti i confort e tutte le ricchezze che un grande re come Tamerlano poteva avere e a proposito di Tamerlano si parla di Samarcanda eh si parla soprattutto delle tombe degli antenati di eh di Tamerlano che sono nella moschea di Samarcanda anche qui descritte con eh grande dovizia di particolari e eh di ricchezze nell'immaginario urbano architettonico non possono poi mancare eh la torre di Babele e eh l'arca di Noè che i viaggiatori eh vedono eh misurano visitano e misurano accuratamente curioso è l'episodio che accade quando eh arrivano eh nei pressi della torre di Babele vengono messi in guardia dagli loro accompagnatori che dicono che la torre è infestata di serpenti velenosi e dicono che l'unico rimedio è quello di mangiare molto aglio e eh strofinarsi eh di aglio tutto il corpo e questo sortisce ovviamente l'effetto voluto per cui i serpenti fuggono e i quattro cavalieri possono entrare nella torre di Babele visitarla e descriverla eh in tutti i suoi i suoi aspetti. Eh il meraviglioso che riguarda le le popolazioni incontrate eh è un meraviglioso appunto che richiama questi popoli eh mitici straordinari fantastici come appunto i pigmei i cinocefali ma eh è un meraviglioso che sottolinea anche eh la la diversità delle usanze dei costumi e questo con una particolare attenzione nei confronti delle donne vengono ad esempio richiamate le Amazoni ovviamente un grande mito del eh del medioevo e eh vengono descritti i loro comportamenti il fatto che vivono in quest'isola eh occupata da sole donne quando vogliono la compagnia maschile mandano sulla terraferma delle bar che fanno arrivare grandi quantità di uomini stanno con loro finché hanno piacere poi li rimandano indietro se eh restano incinte e hanno dei bambini se nasce un figlio maschio viene allevato fino a quando è in grado di camminare e poi viene rimandato al padre se invece nasce una femmina viene tenuta insieme alle altre Amazoni sull'isola e viene educata come una vera Amazoni eh o ancora le donne di una terra che viene chiamata eh è probabilmente un'alterazione del toponimo Georgia eh quindi siamo comunque sempre eh nel eh nell'Oriente e quindi si dice appunto che le donne possono prendere fino a dodici mariti e quando vogliono appartarsi con uno dei mariti lo conducono nelle loro stanze e il marito appende alla porta il suo cappello così se per caso ne arriva un altro vede il cappello appeso alla porta quasi un cartello non disturbare e si allontana con discrezione quello che colpisce è che non c'è nessun giudizio di valore su queste usanze così diverse da quelle eh diciamo così eh consuete europee eh semplicemente eh vengono descritte tutte queste eh queste usanze queste meraviglie la ehm l'aggettivo più forte diciamo così che viene usato è l'aggettivo strano eh ma non viene espresso nessun giudizio di valore semplicemente sono eh notizie che vengono riportate per eh mostrare diciamo così l'alterità della cultura è una cultura diversa con le sue caratteristiche e ci si limita semplicemente a presentare le caratteristiche di questi di questi popoli eh del Gran Can ovviamente eh e qui allora arriviamo al meraviglioso che potremmo definire politico eh viene descritta eh il modo di vita si dice che il Gran Can vive alla maniera occidentale al modo francese ci viene detto nel testo e eh ovviamente si sottolinea la perfetta organizzazione statale del Gran Can di cui peraltro aveva già parlato Marco Polo eh e viene ricordato ad esempio il suo eh straordinario servizio di posta che era proprio una dei uno dei punti di forza dell'organizzazione statale del Gran Can. ehm dappertutto questi cavalieri vengono accolti con eh tutti gli onori vengono ehm accolti eh con ehm cura adeguata al rango di appartenenza eh quando ehm lasciano la corte di Tamerlano Tamerlano da loro addirittura un salvacondotto eh una freccia d'oro con il suo nome inciso dicendo appunto che chiunque avesse visto questa freccia li avrebbe accolti con tutti gli onori e in effetti è quanto accade quando arrivano dal re di Persia che non appena vede la freccia d'oro di Tamerlano eh li eh scende addirittura dal cavallo va incontro a questi stranieri bacia loro le mani e i piedi e bacia questa freccia in segno proprio di omaggio nei confronti eh del del mittente diciamo così eh dalla Persia eh diciamo che il punto più a oriente che i eh viaggiatori i quattro cavalieri toccano da lì fanno di nuovo rotta verso occidente arrivano appunto a Damasco eh e poi vanno a Beirut e da lì si imbarcano per tornare in Europa ma qui si apre il secondo capitolo diciamo così di questo lungo viaggio perché al seguito dell'imperatore Sigismondo eh visitano molti paesi europei eh richiamati da fatti storici viene citato ad esempio il conciglio di Costanza viene citato il tentativo dell'imperatore Sigismondo di porre fine allo scisma d'Occidente andando a Perpignan a incontrare eh l'antipapa e quindi cercando no di eh di porre fine a questo a questo a questa divisione drammatica che eh era ancora in corso in quel periodo e poi ce l'è ecco delle eresie che stavano percorrendo eh tutta l'Europa eh l'eresia uscita per esempio che porta i viaggiatori eh verso eh la Bohemia e a Praga assistono anche qui a alcuni eventi straordinari eh che hanno proprio a che fare con questi eretici boemi eh o ancora eh in Inghilterra anche qui eh l'eresia eh di Wycliffe che aveva eh segnato profondamente la la vita eh in Inghilterra ma eh queste tutti questi fatti diciamo così concreti eh relativi a eventi storici del tempo sono l'occasione per descrivere le meraviglie dell'Europa e allora eh si narra ad esempio una leggenda che eh riguarda gli inglesi eh che a seguito di una maledizione eh ricevuta nel testo si dice da Thomas Beckett prima di morire ehm la tradizione in realtà è molto più complessa eh i eh gli inglesi maschi sarebbero nati con la coda per cui eh si afferma e questo eh lo ritroviamo proprio nelle satire del tempo specialmente in Scozia e in Francia che ovviamente non avevano rapporti molto buoni con l'Inghilterra eh il il peggior insulto che si poteva rivolgere a un inglese era quello di chiamarlo coduto e eh il riferimento agli inglesi coduti è molto presente nei testi dell'epoca e i quattro cavalieri spiegano il perché di questa di questa cosa doveva essere una leggenda piuttosto nota se addirittura Enea Silvio Piccolomini prima di diventare papa in un suo viaggio apostolico in Inghilterra eh dice appunto nei suoi eh commentari ricorda proprio come ci sia una città in cui si dice che eh gli uomini i bambini nascano con la coda eh altra eh altro territorio pieno di meraviglie è l'Irlanda e qui abbiamo tutto il diciamo il meraviglioso nordico che emerge in questa eh in questa terra eh si parla ad esempio di un lago in cui eh esiste un'isola dei viventi l'isola dei viventi è un'isola in cui si invecchia ma non si può mai morire per cui ci sono persone che hanno anche trecento quattrocento anni quando si stufano di vivere eh queste eh persone chiedono di essere portate su un'altra isola che c'è nel lago appena toccano terra muoiono quindi è una scelta personale no quella di di decidere il momento della propria fine o ancora eh gli alberi che producono pesce uccelli eh si dice che in quest'isola ci sono degli alberi piantati lungo un fiume quando eh i frutti cadono nell'acqua diventano pesci quando cadono sulla terra diventano uccelli eh di nuovo questa doveva essere una leggenda piuttosto nota perché di nuovo il piccolomini eh durante il suo viaggio in Scozia si ripromette di verificare eh l'autenticità di questa eh di questa leggenda e avendo riscontrato che ovviamente non ci sono alberi di questo tipo non eh chiude completamente la possibilità dell'esistenza di questi alberi eh meravigliosi dice che però sono nelle isole Orcadi eh altra terra visitata la la penisola iberica la Spagna e soprattutto il Portogallo anche qui in Portogallo i questi quattro cavalieri vengono accompagnati dal re di Portogallo a vedere varie meraviglie fra cui eh nel monastero di battaglia una fontana la cui acqua ha una straordinaria prerogativa per cui se vi si immerge un animale questo esce tutto pelato o ancora se si usa l'acqua per cuocere i cibi i cibi anche se l'acqua bolle i cibi non cuociono eh la carne si stacca dalle ossa ma esce fuori completamente cruda eh o ancora si parla di un ehm un forno eh in cui ehm viene fatto cuocere il pane questo nel monastero di Alcobazza eh e eh c'è un moro che entra e dentro questo forno ehm va prende il pane e ne esce fuori senza aver subito nessun nessun danno eh tutte queste meraviglie vengono appunto raccontate in questa seconda parte che è un po' proprio un eh un viaggio attraverso il continente europeo eh con eh diciamo questo ehm questa base storica questo riferimento velato a avvenimenti e personaggi storici ma con questo obiettivo comunque di andare alla ricerca delle meraviglie del mondo. I quattro cavalieri poi fanno rientro nelle loro terre e eh a quel punto si conclude eh il loro viaggio. Chi siano questi quattro cavalieri? Beh all'inizio ci viene detto che sono quattro francesi e un italiano e eh vengono anche eh elencati i loro nomi ehm volendo andare però a dare una consistenza storica a questi personaggi eh purtroppo non si riesce a trovare eh dei riferimenti anche se compara un nome di tutto rilievo perché il eh diciamo così il capo delegazione voce narrante in questo racconto è Jacopo da San Severino che farebbe pensare alla grande famiglia dei San Severino che sappiamo ha avuto un ruolo molto importante eh nella vita politica dell'Italia del eh del quattrocento. Non ehm non si sa eh se effettivamente sia esistito un Jacopo da San Severino, non abbiamo notizie storiche per eh un personaggio con questo nome ad inizio quattrocento ma comunque ci sono molti indizi all'interno del testo che ci permettono di individuare quantomeno un ambiente in cui questo testo potrebbe essere stato scritto e questo ambiente ci porta verso il centro sud Italia e verso il eh il regno eh dell'Italia meridionale che all'epoca era eh sotto il dominio aragonese. Ci sono alcuni indizi che portano in questa direzione ma ovviamente non voglio raccontare tutto perché voglio lasciare anche un po' il gusto di andare a scoprire queste cose all'interno del volume. Beh grazie perché è davvero interessante e sembra un materia una sceneggiatura da film moderno no? Cioè grande fantasy medievaleggiante ma noi abbiamo idea di chi sia l'autore? Eh l'autore allora ehm non eh non sappiamo ehm con precisione è possibile che sia un chierico agostiniano eh che ha eh scritto questa opera per un eh qualche nobile esponente forse anche con un intento didattico quindi potrebbe essere anche rivolto ad un giovane esponente della famiglia San Severino eh è possibile che ci sia un legame fra questi due aspetti perché eh la famiglia San Severino ha fondato ha voluto un'importante fondazione monastica eh nel nel sud Italia il monastero di eh San Lorenzo di Padula che era un centro ehm a livello internazionale eh diciamo che tutti i riferimenti che noi troviamo all'interno di questo racconto ci fanno pensare ad un autore che aveva una cultura profonda eh molto varia e soprattutto eh in per così dire rara perché tutti questi riferimenti a certe leggende per esempio le leggende del portogallo noi le troviamo attestate in ehm documenti di due secoli posteriori quindi ehm al tempo era eh erano storie che circolavano poco quindi questo ci fa capire che era una persona molto preparata anche dal punto di vista culturale e ovviamente doveva aver letto molto doveva essersi documentato molto e doveva quindi avere a disposizione una biblioteca tale da permettergli no di entrare in contatto con tutto questo questo materiale di cui poi viene nutrita la sua opera un'altra un'altra curiosità un'altra curiosità e si sa che che diffusione può aver avuto un testo del genere in quel periodo allora eh la tradizione manoscritta è molto limitata eh sono attualmente noti tre eh manoscritti ehm due sono qui in Italia eh a Firenze e a Roma la Biblioteca Vaticana eh un altro eh e qui è diciamo l'altra caccia eh che eh ha dato frutto eh per in questo in questo volume l'altro si trova attualmente negli Stati Uniti alla Biblioteca della dell'Università di Yale eh probabilmente finito lì per eh commerci eh vendite o vendite all'asta o comunque commerci di eh antiquari che hanno venduto molti volumi eh negli Stati Uniti specialmente nella seconda metà del Novecento le biblioteche eh delle università delle fondazioni statunitensi si sono nutrite di questo commercio internazionale di libri di manoscritti eh questo manoscritto è finito a a Yale ed è fra l'altro dei tre il migliore quello che ci 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 permette davvero di conoscere il testo nella sua completezza e nella sua correttezza quindi è un testo che probabilmente non ha avuto una grandissima diffusione ma ehm è un un testo prezioso perché ci racconta leggende storie che sono poco documentate in altre narrazioni di viaggio e e questo è un dato secondo me importante eh l'altro aspetto importante è proprio questo eh l'impostazione diciamo così ideologica che sta alla base di questo racconto eh che è appunto un racconto basato sulla sull'idea della scoperta della ricerca della meraviglia ehm l'obiettivo dei viaggiatori è proprio questo non ci sono altri ehm scopi dichiarati se non quello di vedere tutte le meraviglie del mondo e questo è sicuramente un dato eh abbastanza singolare nel panorama dei racconti di viaggio medievali. beh a questo punto non rimane che correre in libreria e acquistarlo per goderne appieno tutti i contenuti io ricordo il titolo che le meraviglie del mondo nel viaggio ad inizio quattrocento di quattro cavalieri appena pubblicato dalle edizioni dell'orso edizione in critica e commento di Laura Ramello che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite che ce lo ha presentato che noi ringraziamo davvero tanto. Grazie a voi. E invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove insieme a questa troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie di nuovo e a presto. Alla prossima. Grazie a tutti.